Dopo la grande avventura dell'estate del 2018 in cui Colli Senza Frontiere è stata ferma a un giro in occasione delle finali nazionali di Italia Gioca che si sono svolte a Pescara, l'associazione Castellammare in festa si è subito rimessa all'opera per organizzare la 21esima edizione del Palio. Protagoniste assolute della manifestazione sono le rappresentative degli otto Colli cittadini contraddistinte dai colori delle magliette indossate dai partecipanti. Siamo molto carichi dopo un anno di stop perché l'anno scorso abbiamo portato alla ribalta la quinta edizione di Italia Gioca e questo ha segnato uno stop all'edizione locale, però ci ha dato anche più grinta dal punto di vista umano, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista dell'inventiva. Quest'anno la novità più assoluta è che abbiamo aperto il nostro direttivo all'entrata di sei giovani. Sono i nostri sei capitani storici che hanno voluto provare l'ebbrezza di stare dall'altra parte. Noi vogliamo cominciare ad aprire per lasciare un pochino andare il testimone, una nostra eredità ormai che va avanti da 23 anni e che crediamo loro possano degnamente raccogliere, spalleggiati ancora per un po' da noi. Secondo voi giovani che cosa portano in particolare? Una maggiore presenza per esempio sui social o qualcosa del genere? O anche ho visto musica dal vivo con le cover band? Esatto, abbiamo provato intanto il canale social che abbiamo visto dai suoi risultati e abbiamo tentato con le cover in modo da attirare molto pubblico giovane, questo per avere sempre un ricambio generazionale e comunque cercare negli anni di mantenere la manifestazione attiva così come già sono 20 anni che va avanti, cercare di portarla avanti per tanto altro tempo. Pescara è nata sul mare e sui colli, due realtà distinte ma che si sono fuse e che hanno creato una città stupenda e noi in questi giorni festeggiamo Sant'Andrea, quindi la festa dei pescatori, ma portiamo avanti questa iniziativa che è Colli Senza Frontiera che rappresenta l'identità dei colli di Pescara e ogni tradizione che mette in risalto l'identità della nostra città credo che debba essere sostenuta, apprezzata e bisogna fare in modo che possa continuare a crescere, quindi io ringrazio gli organizzatori di Colli Senza Frontiera che oramai hanno superato i confini pescaresi e abruzzesi perché si confrontano anche a livello nazionale con iniziative identitarie che si svolgono in tutte le parti d'Italia.